Azioni di richiamo Cliccando in azioni di richiamo possiamo trovare a titolo informativo la presenza di azioni di richiamo che il costruttore ha aperto per la tipologia di vettura. Come si legge nella nota di esclusione delle responsabilità, Ella Gutman si limita a mettere a disposizione questi contenuti e pertanto non si assume alcune responsabilità per l'esattezza, la correttezza e l'attendibilità degli stessi. Per eventuali chiarimenti in merito all'entità o allo svolgimento mettersi in contatto direttamente con un'officina autorizzata o con il costruttore. Per motivi di responsabilità il cost center tecnico di Ella Gutman non dà informazioni in merito. Qui di fianco troveremo la lista delle azioni. Se non sono presentazioni di richiamo non vuol dire che per la vettura non ce ne siano. Solo la concessionaria o l'officina autorizzata può verificare la presenza o meno di un'azione di richiamo.